No, mi sono infortunato che il mistero ha giocato troppo pesante. Grazie a tutti. 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 6-4. 7-4. 7-5. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 8-5. 8-5. 9-6. 9-6. 9-6. 9-7. 9-7. 9-7. 9-6. 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 9-7. 10-7. 10-7. 10-7. 10-7. 10-7. Grazie a tutti. 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 12-8. 13-8. 13-9. 14-9. 15-9. 15-10. 16-10. 16-10. 16-10. 16-10. Sì, chi è? 16-11 Sì, chi è? 16-12 17-12 18-12 18-12 19-12 19-12 19-12 19-14 19 12 19 12 19 19 19 21 a 12 22 19 È già ora, alla prossima.